Il bilancio dell'attività nel 2022 sospese 97 aziende non in regola, oltre un milione e mezzo di sanzioni. Molesti sessuali a due colleghi e chiesta una pena di quattro anni per un ispettore della municipale, tre gli episodi contestati. Ciclovia del sole, entro fine anno l'affidamento dei lavori per la tratta Prato-Montemurlo. Si infrange il sogno di promozione in B dei Dragons, sconfitti in gara 5 ed è polemica sull'inadeguatezza delle toscanine. Buonasera e benvenuti al telegiornale di TV Prato. Anche a Prato l'Arma dei Carabinieri ha celebrato oggi l'anniversario numero 209 della Fondazione. È stata l'occasione anche per tracciare il bilancio di un anno di attività. Ce ne parla Giulia Ghizzani. Carabinieri di Prato in festa oggi all'interno della palestra dell'Istituto Buzzi per l'anniversario numero 209 della Fondazione dell'Arma Nazionale dei Carabinieri. Alla presenza delle istituzioni provinciali il comandante provinciale, il colonnello Francesco Zamponi, ha tracciato un bilancio dell'attività portata avanti nel 2022. L'arma ha proceduto per il 75% dei reati commessi in provincia, 238 le persone arrestate e quasi 1.400 quelle denunciate. Ben 12.000 le chiamate pervenuti alla centrale operativa. Il 2022 è stato un anno che fisiologicamente ha visto un leggero incremento della delittosità, ma questo è dovuto a un confronto spurio che viene effettuato con il 2021, un anno in cui c'erano ancora le limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19. Detto questo va comunque ricordato che il 2022 c'è un'attività di contrasto nettamente superiore rispetto a quella del 2021 in termini di arresti, denunce in Stato di Libertà e reati scoperti. Se invece paragoniamo il 2022 con il 2019, che sono anni normali, comunque pre-Covid, ecco questo noi abbiamo rilevato invece una flessione dei reati, ossia il 2019 era una delittosità maggiore rispetto a quella del 2022. Nel 2022, come anche è stato nel 2021, abbiamo dato un impulso maggiore all'attività di contrasto allo sfruttamento dell'illegalità del sistema produttivo, quindi sfruttamento dei lavoratori, approfittamento dello stato di bisogno e tutte quelle violazioni che circondano l'ambiente lavoro. Questo ovviamente fatto anche in osmosi unitamente alle altre istituzioni statali e locali. Anche grazie al tavolo per la legalità e per il contrasto all'illegalità produttiva creato dal prefetto, per cui noi abbiamo agito anche autonomamente e tutta l'attività dell'arma in concorso al nucleo spettolato del lavoro ci ha consentito comunque di applicare un milione e mezzo di euro di sanzioni e 97 attività imprenditoriali sospese proprio per irregolarità accertate. La cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare alcuni encomi a militari che si sono contraddistinti in operazioni di servizio e novità di quest'anno sono stati premiati anche tre studenti delle superiori per il loro forte senso civico, impegno e altruismo dimostrati in ambito scolastico. Una menzione speciale infine per Dante Nesi, carabiniere in congedo di Montemurlo che quest'anno ha compiuto ben 101 anni. Prima combattente e poi prigioniero in Albania nel corso del secondo conflitto mondiale trascorse in quelle terre ben due anni ai lavori forzati, fino a quando riuscì a fuggire e a fare rientro a Montemurlo. Oggi questo riconoscimento da parte dei carabinieri cosa rappresenta per lei? Mi rappresenta tutto, mi dispiace che lo posso godere poco perché lei sta nascendo da chi potesse farlo da giovani e averlo in testa per tutta la vita, bello, bello, non me l'aspettavo mondo pure così. Lei ha operato una vita al servizio dell'arma dei carabinieri, cosa ha rappresentato l'arma per lei? L'arma ha rappresentato tutto, si capisce troppe cose sull'arma, l'arma di un corpo speciale, un corpo che va valutato perché è una cosa speciale. Con lei ne ha superate tante nel corso della sua vita, qual è la cosa che le ha dato sempre forza per andare avanti? Ha dato sempre forza, prima di tutto lo spirito a Dio e alla Madonna che io sono fedele a loro. Ancora un'aggressione in centro storico, stavolta i danni di un cameriere in servizio. È accaduto sabato sera in piazza Mercatale, nei locali del Wallace Pub, dove un gruppo di ragazzi ha picchiato un cameriere. Reo la sera precedente di avere aiutato due ragazze che si erano rifugiate nel locale in attesa dell'arrivo dei genitori, allontanandosi così da un gruppo di ragazzini che le infastidiva. Questi ultimi non hanno preso bene la protezione offerta alle ragazze e così la sera successiva sono tornati al Wallace per regolare i conti, finendo per rompere il naso al malcapitato cameriere. A intervenire sulla vicenda è anche Commercio Prato Pistoia. È un campanello d'allarme non trascurabile, serve più sicurezza. Il presidio rappresentato dai locali aperti è già di per sé un deterrente, ma da solo non può dirsi sufficiente, afferma l'associazione. Presunte molestie sessuali a due colleghe, chiesta pena di quattro anni per un ex ispettore della Municipale, oggi in pensione. Gli episodi contestati sono tre. Le vittime non hanno presentato denuncia, ma la Procura ha proceduto d'ufficio contestando l'abuso delle funzioni del pubblico ufficiale. Il procuratore Laura Canovai ha chiesto una pena di quattro anni per l'ispettore della Polizia Municipale a processo per violenza sessuale con l'accusa di aver allungato le mani nei confronti di due colleghe. L'inchiesta partì nel 2019 quando una delle due presunte vittime delle molestie si confidò con le colleghe raccontando di sentirsi a disagio in presenza dell'ispettore. Le due donne hanno preferito non sporgere denuncia. La Procura ha contestato l'aggravante dell'abuso delle funzioni del pubblico ufficiale, perseguendo così il reato d'ufficio e delegando le indagini alla stessa Polizia Municipale. Secondo l'accusa, l'ispettore, oggi in pensione, avrebbe fatto leva sul suo grado di superiore per creare le condizioni favorevoli ad agire indisturbato. Un episodio sarebbe avvenuto nel rimessaggio auto del comando di Piazza Macelli, un locale interrato dove l'imputato avrebbe condotto l'agente con una scusa per poi palpeggiarle il seno. Il secondo episodio raccontato dalla stessa vigilessa sarebbe avvenuto nella centrale operativa approfittando di un momento di assenza di un altro agente. La seconda agente ha raccontato invece di aver ricevuto un bacio sul collo improvviso ed indesiderato. Durante la requisitoria, la PM Canovai ha citato alcuni precedenti del contegno invadente tenuto dall'ispettore nei confronti di una delle due vigilesse che avrebbe respinto al mittente avanza e apprezzamenti verbali mostrando tutto il suo disappunto. Antonino Denaro, avvocato difensore dell'imputato, ha contestato la procedibilità del reato in assenza di denuncia delle vittime e ha chiesto l'assoluzione dell'ispettore, sottolineando anche alcune incongruenze nella ricostruzione dei fatti fornita da una delle vittime nel corso delle indagini e durante il processo. Ancora cronaca giudiziaria ha provato a discolparsi sostenendo che alcuni esami più invasivi erano necessari per motivi diagnostici e che sarebbe stato il medico curante delle donne a doverle informare sull'eventualità di eseguire indagini transvaginali. Il radiologo, 63 anni, è stato sentito oggi nel processo che lo vede imputato per violenza sessuale. Ad averlo accusato sono ben 30 pazienti che si erano rivolte a lui per visite specialistiche effettuate presso due centri medici a Prato e Provincia tramite il CUP. Visite che, secondo le testimonianze delle pazienti raccolte dalla squadra mobile, avvenivano con metodi a dir poco ortodossi ed erano accompagnate da apprezzamenti verbali proposti a sfondo sessuale e veri e propri abusi. L'esame dell'imputato stamani era l'ultimo snodo del processo per fatti risalenti al 2015. Nella prossima udienza, fissata a luglio, ci saranno la requisitoria del pubblico ministero e la ringa difensiva. La parola passa adesso a Giulia Ghizzani per le anticipazioni di Chiedilo al Sindaco che torna stasera in compagnia del primo cittadino Matteo Biffoni. Siamo tornati su TV Prato con Chiedilo al Sindaco ed è tornato il nostro sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, era l'ora. Un periodo di stop dovuto, lo vediamo anche dagli occhiali che indossa, ad un piccolo problema di salute è fortunatamente risolto. Adesso si ritorna quasi a pieno regime, parleremo quindi in questa puntata del 2 giugno, cerimonia che l'ha vista tornare in piazza alla presenza di tanti cittadini e delle istituzioni della nostra provincia e poi di mobilità, infrastrutture con tante domande che ci arrivano da casa anche su casi specifici e particolari. Rivolgeremo questi quesiti al nostro sindaco, restate con noi. È ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita la donna di 68 anni che stamane intorno alle 8.30 si sarebbe buttata dal cavalcavia della declassata all'altezza della rotatoria di Pratilia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto si tratterebbe di un gesto volontario. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi. La polizia municipale è intervenuta per regolare il traffico in direzione di Pistoia che è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso. Ancora cronaca, hanno dovuto utilizzare il taser i poliziotti intervenuti ieri ai giardini pubblici di via Marchini dove due cittadini stranieri hanno insultato una donna che li aveva rimproverati perché avevano gettato immondizia nell'area verde incuranti della presenza di altre persone fra cui anche bambini. La donna, sentitasi minacciata, ha chiamato la polizia che ha identificato entrambi i soggetti. Uno di loro si è opposto alle operazioni e ha sferrato pugni agli agenti ferendone lievemente uno che ha riportato sei giorni di prognosi. L'uomo, un 42enne pakistano, con precedenti in materia di immigrazione per ubriachezza molesta, è stato bloccato anche con l'utilizzo del taser e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Cambiamo argomento adesso per dare conto dell'apertura prevista nel 2023. La fine del 2023 ci sarà l'affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile Prato-Montemurlo nell'ambito della ciclovia del Sole. Il percorso complessivo è di 16 chilometri e collegherà dal confine con Campi Bisenzio fino a Montale. Intanto torna sabato prossimo Bici in città. Passerà anche da Prato e da Montemurlo la ciclovia del Sole, il tracciato ciclabile che collegherà la Norvegia con Malta. 15 chilometri previsti sul territorio pratese, 11 a Prato-Città e 4 a Montemurlo. La pista dal confine provinciale con Campi Bisenzio correrà lungo il fiume fino ad arrivare in Viale Galilei. Qui la svolta verso la gualchiera di Coiano, San Martino per Galceti e l'arrivo in zona Dogaia. Il tratto finora citato e già esistente verrà riqualificato. Quello nuovo invece lungo 400 metri e dalla Dogaia consentirà di raggiungere la vecchia montalese a Bagnolo. Più articolato invece l'intervento su Montemurlo, tutta la vecchia montalese fino al nuovo centro cittadino sarà costeggiata dalla nuova ciclabile che poi proseguirà fino al nuovo ponte a Lagna raggiungendo Montale. L'investimento è di 3,2 milioni di euro su Prato e di 1,1 milioni su Montemurlo per la quasi totalità finanziati con fondi PNRR. L'affidamento degli appalti è previsto entro fine anno. Effettivamente entro l'anno verranno affidati i lavori per Eurovelo 7, ovvero sia per il tratto pratese di Eurovelo 7 per cui il Comune di Prato è capofila e sarà un tratto di 11,3 km che correrà nel nostro territorio un pezzettino su Montemurlo e ci consentirà di realizzare ex novo quei 400 metri che per ora non collegano Prato con Montemurlo dalla Dogaia verso Bagnolo e di riqualificare completamente il tratto già esistente che arriva fino a Campi Visenzio all'ex Ponte Bale. Il lotto che interesserà il nostro Comune è quello di Montale, appunto ha l'obiettivo di ricongiungere dal centro cittadino fino al ponte a Lagna e quindi ricongiungersi con Montale. È un obiettivo ambizioso però è importante per far sì che tutti i cittadini possono avere tratti di ciclabile e tratti dove anche andare a piedi naturalmente e sostenere così la mobilità sostenibile. Intanto sabato ci sarà la quinta edizione di Bici in Prato, la passeggiata in bicicletta che stavolta toccherà sia Prato che Montemurlo proprio sul futuro tracciato da realizzare con i fondi del PNRR. Il ritrovo in piazza del Comune alle 9.30 per poi dirigersi verso Montemurlo dove ci sarà un pit stop in piazza della Repubblica per poi rientrare a mezzogiorno e mezzo in centro a Prato. Più facile risolvere le controversie grazie al servizio di mediazione attivo presso il Palazzo delle Professioni. La metà dei casi si conclude con un accordo. L'Alternative Dispute Resolution di Palazzo delle Professioni ha un nuovo consiglio di amministrazione. Ne fanno parte rappresentanti di farmacisti, architetti, avvocati, medici, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, periti industriali, ingegneri e geometri, il presidente Alessandro Ruff. L'ADR Palazzo delle Professioni di Prato offre l'opportunità di risolvere le controversie evitando le lungaggini del percorso giudiziario attraverso l'organismo di mediazione operativo dal 2012, iscritto all'apposito registro del Ministero della Giustizia. Sono oltre 620 le mediazioni trattate in circa nove anni. Dopo il primo incontro informativo sono due su tre le procedure proseguite con un tentativo effettivo di mediazione con accordi raggiunti nel 50% dei casi. La mediazione è un'alternativa assolutamente efficace che permette ai cittadini alle imprese di risolvere le controversie in maniera bonaria, al di fuori del classico percorso giudiziario tramite il supporto dei mediatori appositamente formati. È l'organismo di mediazione, fondato ormai da svariato tempo, perché è dal 2011, che si trova nel Palazzo delle Professioni di Prato ed è partecipato da tutti gli ordini presenti nel Palazzo delle Professioni, più l'ordine dei notai e l'ordine dei medici. Può contare su un numero di mediatori ormai esperti e veramente validi. E inoltre la cosa che per noi è molto importante è l'istituto della commediazione, cioè ogni mediazione, oltre al mediatore tecnico della materia, sarà seguito anche da un commediatore avvocato, il quale dà una maggiore garanzia sulla correttezza e sulla giuridicità della procedura di mediazione. Voglio anche ricordare che la mediazione è un'alternativa estremamente valida, da mio giudizio, rispetto al giudizio, in quanto ha dei tempi sicuramente molto brevi e dei costi assolutamente contenuti. La tavola rotonda Scienza e Spiritualità ha dato il via al Festival Economia e Spiritualità arrivato alla sua ottava edizione. Alla Villa del Palco, scienziati di fama internazionale hanno dato vita ad una profonda riflessione sul futuro della scienza. Ce ne parla Silvia Fioravanti. Inoltre 400 sono accorsi a Villa del Palco per ascoltare la tavola rotonda conclusiva della tre giorni intitolata Scienza e Spiritualità, durante la quale alcune tra le menti più eccelse del panorama scientifico mondiale si sono riunite a Prato per definire una nuova scienza che accolga al suo interno la spiritualità. Sono state giornate indimenticabili, credo che la città di Prato abbia ospitato un appuntamento, oso dire, proprio storico, perché questi scienziati sono confrontati per abbattere una barriera che per lungo tempo invece ha separato la scienza e la spiritualità e si è parlato proprio di una nuova scienza che supera i paradigmi suoi passati che lascia spazio all'invisibile, al mistero, alla spiritualità. Non solo, ma che da questo ne derivi anche un'indicazione per maggior cura degli esseri umani e del pianeta. Alla tavola rotonda hanno partecipato, assieme a padre Guidalberto Bormolini, Federico Faggin, il padre dei microprocessori, Paolo Gamberini, scrittore e teologo, Pierluigi Luisi, chimico e membro del Mind and Life Institute, Daniela Lucangeli, professoressa dell'Università di Padova e presidente di Mind for Children, e Stefano Mancuso, botanico e saggista. Per il momento c'è una possibile teoria, che deve essere provata ovviamente, che spiega la coscienza come fenomeno puramente quantistico e questa teoria è veramente un passo avanti perché nel passato la coscienza veniva considerata un fenomeno puramente del cervello come macchina classica, come un computer. Quindi questa teoria negherebbe che un computer possa essere cosciente. La scienza si trova veramente in un punto di critico, nel senso che può cambiare completamente la sua faccia nel giro di poche decine di anni. E quindi questi contributi dati in questo meeting sono veramente indicativi della possibilità di un cambiamento totale della filosofia e della scienza. Opere d'arte al posto dei cartelloni pubblicitari. Prosegue in Viale Galilei il progetto Arte di Confine che propone anche la mostra di Hermit in the Garden negli spazi di Villa Rospigliosi, in servizio di Diletta Bezzi. Sono degli artisti pantani-surace i tre manifesti situati in Viale Galilei per la sedicesima edizione del progetto Arte di Confine, ideato e curato da Riccardo Farinelli, che vedono protagonista la mostra di Hermit in the Garden realizzata appositamente per gli spazi di Villa Rospigliosi. I gonfalloni pubblicitari sono stati messi a disposizione dall'azienda di cartellonistica Signal di Montemurlo. La Signal che si occupa di pubblicità esterna ed è partner del progetto di Arte di Confine è lieta di ospitare e dare visibilità con questa sequenza di gonfalloni al duo Pantani-surace. Oltre tre gonfalloni in Viale Galilei, il progetto Pantani-surace conta tre installazioni presso gli spazi di Villa Rospigliosi. Una xilografia stampata su carta con un annuncio settecentesco di un lord inglese alla ricerca di un eremita da giardino, da qui il titolo della mostra The Hermit in the Garden, un piccolo pacco di pasta secca la cui forma deriva dal morso parziale della famiglia Segghi-Rospigliosi e due linee luminose, una orizzontale e una verticale che misurano la facciata della villa. L'abbiamo riproposto qui perché la mostra tratta di una storia dei ritratti che riguardano la famiglia e il luogo in relazione con una storia particolare, con una storia universale, che è quella di un eremita che ha riguardato nel 6700 in Inghilterra tutti i nobili. Le condizioni in cui ci sono, c'è una grotta, c'è una cascata, basta poco per innescare un meccanismo e in realtà farlo rivivere in un posto dove se non è successo poteva ed è possibile insomma riproporlo. Le altre due installazioni sono Edelweiss, che in realtà è un ritratto collettivo, un ritratto che traccia i segni dei morsi della famiglia. Invece l'altro lavoro si trova in facciata e praticamente si tratta di un disegno perfettamente riprodotto che traccia le quote della dimensione della casa. La mostra, che resterà aperta fino al 22 luglio, visitabile solo su appuntamento, racconta il rapporto tra fisicità e spiritualità, tra passato e presente, e la relazione tra l'osservazione diretta con la costruzione mentale e l'esperienza. L'obiettivo del progetto è quello di far riflettere su questi due mondi, quello naturale e del fiume e del giardino con quello delle case e dei negozi divisi dal viale Garilei. Ed ora lo sport, basket, si infrange alla bella il sogno promozione della SIBE Prato. Ieri alle Toscanini i Dragons hanno perso 65-50, la partita decisiva per l'accesso in Serie B. I pratesi avevano la chance di giocare in casa a gara 5 con la serie sul 2-2, in quello che in pratica era un vero e proprio spareggio. E non mancano le polemiche per l'inadeguatezza dell'impianto sportivo. Hanno avuto delle percentuali dall'arco migliori delle nostre. Non è la prima volta in questa serie che succedeva questa cosa qui. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima cosa a forzare la serie a gara 5. Abbiamo avuto un po' poco tempo di poter recuperare, però devo fare comunque complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto comunque stasera, nonostante le difficoltà. Hanno cercato di nasconderle. nasconderle e comunque vi devo solo ringraziare, ringraziare tutto il gruppo perché in questo tipo di campionato arrivare a giocarsi la serie via l'ultima partita non è assolutamente banale. Con squadre e società che hanno budget molto più grandi di noi, hanno impianti molto più capienti e ospitali del nostro. Quindi noi abbiamo fatto una stagione al massimo con una squadra di dopolavoristi, abbiamo forzato partite contro squadre di professionisti e con giocatori del nostro settore giovanile. Quindi da questo punto di vista faccio anche complimenti alla società per aver creduto nel programma e anche di aver creduto nei ragazzi, anche nel momento in cui c'era la possibilità di poter fare degli inserimenti, ma abbiamo continuato a credere nel programma e nei nostri ragazzi. E questo credo che sia stato vincente per gli anni futuri. Un impianto in questo modo non è proponibile. Nel 2023 avere un impianto così dove dobbiamo togliere le barriere per poter far sedere le persone non ha senso. Finalmente non ha senso. In una città come Prato, giocare qui ci ha anche penalizzato, anche dal punto di vista sportivo. Appuntamento alle 21.20 con il gioco è fatto estate e Massimiliano Masi ci anticipa i contenuti della trasmissione di stasera. Grazie per la linea. Alle 21.20 il gioco è fatto estate. Parleremo di calcio e mercato, cercheremo di capire cosa succederà alla prossima stagione e poi avremo i riflessi anche delle ultime partite stagionali. Questa sera avremo i riflessi della gara della Zenit che ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Ellera. È stata quindi eliminata dalla corsa sul campo alla Stredì ma ha giocato una partita davvero straordinaria. Avremo i riflessi firmati, le interviste e poi cercheremo di capire anche quante chance ci sono di possibile ripescaggio per la formazione pratese. Poi parleremo anche di Prato. C'è o non c'è questo nuovo direttore generale? Cercheremo di capirlo insieme alla nostra diletta Bitorso di che saluto. Ciao e ovviamente al nostro espertissimo Andrea Labbate. Quindi non cambiate assolutamente canale. 21.20 il gioco è fatto estate. Incollatevi alla sedia. A più tardi. Ancora una notizia di sport. Si sono disputati all'Ignano Sabbiadoro i campionati italiani assoluti. 2023 di nuoto, pinnato, velocità. Giulia Mencarelli, atleta della nota pinna Prato AS, ha conquistato due medaglie d'argento rispettivamente nelle distanze dei 1.500 metri e degli 800 metri con monopinna assoluti under 18. La ciliegina sulla torta è arrivata poi a fine manifestazione quando il CT della Nazionale Italiana ha comunicato i nomi per i prossimi mondiali juniores che si svolgeranno in Egitto dal 19 giugno al 25 giugno, tra cui figura anche la stessa Giulia Mencarelli. E adesso è arrivato il momento dell'agenda. Vediamo quali sono gli appuntamenti in programma domani a Prato e Provincia. domani alle 17 alla Biblioteca Ovest di Galciana l'ora delle storie e letture animate per bambini da 3 a 7 anni. Dalle 18 al Cinema Terminale, giornata di sensibilizzazione sui rischi del gioco d'azzardo e informazioni sulla rete dei servizi presente a Prato. È prevista anche alle 18.30 la proiezione del film Anima Bella e a seguire un rinfresco. Alle 21 alla Casa Madre delle Suore Francescane Minime del Sacro Cuore, appoggio a Caiano, inaugurazione della mostra fotografica l'esperienza delle sei suore minime in Cina, 1932-1949, visitabile fino al 18 giugno. Alle 21 al Giardino di Elisbetta Viaccia per la rassegna Viaccia Festival, unici spettacolo a cura della classe quinta B della scuola primaria Gianni Rodelli. Alle 21.15 al Giardino Buonamici per la rassegna Oltre il Giardino, Corale San Francesco in concerto dirige il maestro Paolo Fessi. Prosegue negli spazi dell'area sportiva del Cersone di Olo, rassegna birra e festival. Domani in sera il concerto della Mad Ferry Toasis Band Tribute. E da domani alle 7 luglio in Via Targetti torna Ex Fabrica Summer Bar, musica, danza, cinema e performance in collaborazione con il Teatro Metastasio. Apriranno la rassegna di concerti i Jennifer Gentle. Si conclude qui il telegiornale della sera, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lama. A seguire torna Chiedilo al Sindaco in compagnia del primo cittadino Matteo Biffoni e poi alle 21.20 il gioco è fatto estate. Grazie dell'attenzione, buona serata. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Tuscania offre soluzioni per aziende e privati. Pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai vent'anni, l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Tuscania, la qualità del pulito. Buonasera dal Consorzio. Lama, questa è la situazione prevista per le ore centrali della giornata di domani. Vediamo ancora un vasto anticiclone che interessa le latitudini settentrionali europee, mentre sul Mediterraneo continua ad insistere un'area depressionaria centrata sul Nord Africa. Questa situazione continua a mantenere condizioni di tempo marcatamente instabile anche sull'Italia e sulla Toscana. Ma passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. Inizialmente abbiamo segnalato un cielo generalmente parzialmente nuvoloso, qualche foschia o banco di nebbia nelle prime ore sulle pianure dell'interno. Non si esclude qualche rovescio già in mattinata sulle zone di nord-ovest. Nel corso del pomeriggio tornano le precipitazioni a carattere di rovescio temporale sulle zone interne, precipitazioni che poi tenderanno ad attenuarsi gradualmente poi nel corso del tardo pomeriggio e della serata, anche se qualche rovescio potrà insistere sulle zone interne e localmente ancora anche sulle coste centro-medidionali. Le temperature domani potranno subire un contenuto aumento nei valori massimi. Passiamo a vedere la tendenza per la giornata di dopo domani. Abbiamo segnalato ancora un cielo poco parzialmente nuvoloso al mattino, qualche foschia ancora sulle pianure dell'interno. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio temporale a carattere sparso, tuttavia rispetto alla giornata precedente questi fenomeni dovrebbero essere meno probabili e comunque meno diffusi sul territorio. Con questo direi che dall'Ammo è tutto.